Bene ragazzi siamo in grado e siamo tornati con un episodio della sfida E oggi wasabi, ogni gol è wasabi Cioè oggi ci facciamo male Perché questo fa veramente male Quindi oggi c'è il wasabi E ogni gol, per esempio abbiamo un coltello perché il cucchiaino praticamente non c'entra qua dentro Quindi abbiamo dovuto fare con i coltelli E prenderemo una coltellata di wasabi Abbastanza, è meglio una coltellata Comunque rende l'idea una coltellata di wasabi Ecco, una coltella di wasabi Ogni gol E squadre casuali Dato che wasabi tipo una continua ti fa ammazzà Penso che una coltellata sarebbe anche peggio Giustamente una coltellata Vabbè andiamo con la specialità delle squadre casuali 3, 2, 1, go Schalke 04 Dai, ma che oh, vale Ma va a fa' un culo, che in vale, porco 2 Vai con il Monterrey, è pure figo Dai, no, no, ti preoccupare Dai e Monterrey, eh Dai e Ramirez Oddio, carco io penso che stai giocare a ultimi team Non so perché Beh, non l'ha visto subito Vai, vai, vai Vai che gli fanno subito male Vai che gli fanno subito Vaffanculo, è parti però Vai, Pabon Pabon Ah, Pabon Era uno del Parma No, stava la genova Non mi vale O Pabon 1 0 Pabon Pabon Non tolitaся vai cosa Pabon Valencia Subito gol Vaffanculo Coltado a te l'onore aprile d'ansia vabbè così vai 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 dai aspetta fammi che a coraggio questa la faccia saprete ma non sta fermo se è pietrifica vuol dire che sta veramente soffrendo l'ho buttato giù sta premando ma l'acqua è vero no guarda è finita ho finito io prima aspetta aspetta oh guarda come so c'è posso giocare così no speri firmale tu ti a posto possiamo continuare io con la squadra più scalza scalza scarpati scarpati madonna mia non riesci a respirare calcolo dai ramirez fai voglio vedere io un po' stupi aria perchè è peggio papon 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 l'autore del gol papon continua eh papon è forte continua a stupire papon vada per la mirez la metà al centro ma chi è il gaston oh il tiro oh dio hai sculato zio hai sculato proprio comunque andiamo a vincere occhio è passato è passato no no non ci posso credi quando direte merda si vedete oddio ciupo oddio ciupo oddio ciupo oddio ciupo moding ciupo moding non sa più che fare guarda quanto cazzo è lento guarda ciupo manchi questo dai 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 sto forco te ti ho fatto neanche l'ho fatta di 50 metri ma che vado guarda guarda qua qua ho sbagliato ma perchè devo fa la bussa dai sono morto tuttavia non scherziamo, vai via via no no era così il mio no 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 così così non me frega un cazzo non te ne papi a sempre nemmeno perchè soffri al piccante è così non era così il mio eh dai eh ma annusa annusa senti che merda porco schifo se è pippa te lo ha voglio vedere come stai poi lui deve fare le labbritte quando devi fare qualcosa che non vuole eh no ma non ciò aiuto, aiuto I il conto che non imbuto, imbuto ahahahahahahahahahhahahah oddio aiuto capo! e posalo nooo! ma non è che lo devo posare io, lo devo pure posare te ah 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 qua c'è un set di coltelli da vende a fine video li vingiamo ah ma adesso sto a fa male io o te sto a fa male quello? ahah! non l'avevo capito ah scusi, c'è il cappello ahahahahah ma che basta cenare ma che muccia UNTELAR UNTELAR nooo mamma mia che bestia nooo ma nooo nooo ho un video così detto non metti a cazzo guarda lo sai che ti voglio bene non mi interessa te sta a pulire che sta a fa bagnate quel cosa dai sono paura nooo ovviamente non avevamo detto che ogni gol si aumentava che cosa ha visto cazzo eh allora ok ok vabbè vabbè ah porco schifo davvero schifo dai mamma mia dai che sei pure abituato hai preso poco tempo fare cercate di metterlo dentro sbrigate nooo e labbro a posto chi fa la sbavata l'ho lasciato vabbè io gioco aspetta dai posa sta sbiancata posalo madonna mia che palle vai posa il tuo po' no mi sta a fai menta cacca mi è rimasto un' gola ho gioco il dolore no 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 col cazzo col cazzo vabbè vai fanculo ahahah 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 che non fai il sentito perché è stronto senti rumori dei tasti no allora io ma non mi faccio caso più che altro me l'aspetto da te soprattutto no no infatti è che lui sentiremo le tassi quindi io che non fanno sentito devo urlà untelar untelar la piazza la piazza malissimo la piazza untelar tripletta per lui e wasabi per lui mamma mia no maria io me ne vado me voglio ammazzà no lascia perdere niente colcino a pialla oddio un'antica roba oddio ma sei ribloccato un gola oh 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 gasso gioco mi guarda due sono l'arrivo di gioia si va bene vai 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 ahahah raga ma che stai a vedere se qua cioè tipo c'hai effetti droganti questa cosa sta ben da rire ma tommy no ahahahah oh per tommy no so 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 sta ben da rire ahahahah non so perchè calcolare stai zitto che dolore oh 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 cazzo te ridi donna mia incredibile te la te la ride te la ride mamma mia mamma mia e che cazzo cannavaro e ancora cannavaro mamma mia cannavaro vince qui quant'è che non vincevi diciamoci velo diciamoci velo diciamolo è l'ultimo come dire per la russa diciamolo è bravo comunque ragazzi se vi hai piaciuto questa sfida arriva a 4000 like e consigliereci cosa possiamo fare per la prossima sfida comunque buon anno nuovo perchè oggi è il 31 quindi festeggiate un... no fatti so e nonostante sia il 31 stasera c'era il 31 esattamente che noi non vi saltirò mai un video ecco esattamente e poi mentre guardate lo sto diciamo noi staremo già benissimo quindi non lo so dai è così buon anno nuovo bella bella come back to life